Ricorre martedì 27 dicembre il 25esimo anniversario della istituzione dell'Aria Marina Protetta Isole Egadi e per l'occasione che ricorre nel periodo natalizio nell'arcipelago avrà al luogo una giornata didattico-ludica organizzata dall'AMP e dal comune di Favignana che coinvolgerà in sequenza i bambini di tutte le isole nel gioco della Tombola del Mare. Si comincia alle 10 di mattina a Marettimo con l'incontro realizzato in collaborazione con l'associazione CRST Marettimo nei locali dell'oratorio parrocchiale. Sotto la guida dei collaboratori dell'Aria Marina Protetta dell'Isola si potrà degustare la speciale torta di compleanno dell'AMP, brindare al suo compleanno e dare il via alla Tombola, una speciale edizione realizzata per l'occasione dove ciascuna delle 90 caselle è associata ad una specie marina che popola l'arcipelago. I festeggiamenti proseguono alle 11 a Levanzo presso il centro sociale con brindisi e torta di compleanno. A seguire lo staff dell'AMP organizza la Tombola del Mare con in palio i migliori gadget dell'Aria Marina Protetta. Nel pomeriggio si prosegue a Favignana con gli animatori del villaggio di Babbo Natale allo stito per le festività natalizie di fine anno che in occasione di queste giornate allietano le giornate appunto dei più piccoli. Dopo brindisi di rito e torte di compleanno si darà il via alla grande tombolata. In programma anche attività di Tarta World per i bambini per sensibilizzarli al rispetto dell'ambiente marino e delle sue creature a partire appunto dalle tartarughe marine per le quali attivo a Palazzo Florio un centro di primo soccorso. Già nei mesi scorsi uno speciale annullo filaterico celebrativo dei 25 anni dell'AMP raffigurante il logo dell'Aria Marina Protetta era stato emesso in collaborazione con poste italiane. L'annullo è entrato a far parte della collazione storico-postale ed è esposto a Roma al Museo Storico delle Poste e Telecomunicazioni.